La seconda parte del video di cui vi stavamo parlando, soprattutto sulla incongruenza della Gazzetta dello Sporco e di chi con le parole cerca di spostare la vostra attenzione e soprattutto la vostra dignità e vuole circuirvi sotto l'aspetto delle notizie, questo è molto grave, chi non ha sentito il video precedente può farlo perché è immediatamente prima di questo nella composizione del canale YouTube. In ogni caso vi ricordo che eravamo arrivati al fatto che l'accesso delle carte in procura per questo momento è arrivata il 29 di novembre e fino a questo momento ancora non c'è nessuna comunicazione. Ecco di qui la pressione, come vi dicevo, della stampa, della stampa manettara, della stampa fangaiola con interpretazioni poi davvero ridicole da parte di chi tenta di affabularvi e carpirvi i click perché probabilmente deve fare il regalo alla fidanzata adesso che è Natale. Vi riferisco al parolaio della provincia di Benevento il quale ancora propina continuamente una serie di nozioni, come vi ho detto nella prima parte del video, molto particolari, ci riempie di chiacchiere, va a prendere articoli, va a prendere norme, va a prendere... però non vi dice mai niente. Poi sono cinque o sei anni che fa lo youtuber e non ha indovinato una notizia. Parla, 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 voi ascoltate e quindi mentre voi ascoltate lui guadagna e guadagna parecchio. E allora adesso hanno pensato alla manovra stipendi. La manovra stipendi è una manovra molto chiara, limbida e fra l'altra le intercettazioni venute fuori l'hanno resa ancora più limbida perché dall'intercettazione abbiamo capito perché il GIP ha detto che la Juventus agiva in buona fede. Quindi per quanto riguarda la vicenda degli stipendi per la quale i giocatori dunque rischierebbero anche una squalifica. Certo, se viene contravenuto il codice di giustizia sportiva ed è evidente che chiunque viene squalificato, è la prima sanzione. Non è il caso però della Juventus che la manovra stipendi l'hanno fatta regolarmente e le carte sono in lega perché sono state valutate dalla Covisoc nel momento in cui c'è stata l'escrizione successiva. Quindi come fate a dire che ci sarebbero carte segrete? Poi parlano proprio perché per buttare zizzani a fango. In pratica durante la questione del Covid, ricordate, è quella poi diciamo una delle posizioni, ci fu la richiesta da parte della Juventus ai giocatori e questa fu presa ad esempio da tutte le squadre d'Europa. Era un virtuosismo, l'hanno trasformato in una colpa, in un reato. Pensate un po', la Juventus chiese ai calciatori, attraverso Chiellini, lo abbiamo saputo perché sono uscite le intercettazioni, di spostare tre stipendi l'anno successivo e praticamente pagandone uno il mese di primo luglio. Così fu. In pratica tutti accettarono che venissero messi sugli stipendi successivi e non c'è stato nulla di particolare. Le intese scritte, se ci sono state, sono ferme in Lega e le ha già valutate la Covisoc, altrimenti la Juventus non poteva agire solo per se stessa. In quel periodo ebbe l'ok della FIGC a fare questa manovra stipendi, ebbe l'ok della Lega. Per cui poi hanno anche, diciamo, fatto un capo di imputazione sulla immissione in bilancio di questi soldi, perché da nessuna parte c'è scritto quando vanno immessi in bilancio, se al momento in cui sono maturati i soldi degli stipendi o quando sono stati dati. La Juventus ritiene che in bilancio vanno messi quando sono stati pagati, la procura ritiene invece che vanno messi in bilancio quando sono maturati. Di qui il capo di imputazione. Cioè su che cosa? Su un pagamento. Ma poi la Juve come falsificherebbe il bilancio se per coprire le falle del bilancio la Exor ha messo 700 milioni di euro. E l'Inter che dovrebbe dire che ha 900 milioni di passivo? Questo bilancio come lo fa l'Inter? Fateci capire. Dico l'Inter perché è quella più indebitata. Come fa a fare il bilancio? E poi quando il soggettone della provincia di Benevento parla delle NOIF, delle norme interne all'ordinamento federale, quando l'Inter ha vinto lo scudetto, le NOIF sono andate a finire a Tarallucci e Vini nel Cestino perché sono state regolarmente disattese. Totalmente. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè qui non c'è nessuna società più virtuosa della Juventus e il virtuosismo lo fanno diventare colpa. Ecco perché io sulla vicenda della territorialità ci credo molto. Non credo al caso. Perché la procura di Torino ha cominciato a indagare sulla Juventus? Se si scopre che non poteva farlo chi paga i danni alla Juve? Perché se il GUP, il giudice per l'audienza preliminare, dirà che la competenza è Milano o è Roma, tutto questo casino chi lo paga la Juventus? Perché probabilmente se la competenza fosse stata a Milano o fosse stata a Roma non avrebbero aperto l'inchiesta. E qui si hanno gettato lì accuse, accuse a più non posso per dimostrare che cosa. È anche la tendenza. Se sulle stesse accuse il processo federale è finito con un nulla di fatto e il GIP, il giudice per le indagini preliminare nel filone ordinario, ha detto che non ci sono gravi indizi di colpevolezza, oltre aver sottolineato, ma quello era sottointeso, che non ci poteva essere l'inquinamento delle prove, non ci può essere la reiterazione del reato, né il pericolo di fuga. Ma di cosa stiamo parlando? Ma davvero pensate che noi abbiamo l'anello al naso e che prendono queste, diciamo, queste inchieste anche gli anti-juventini e i roditori di professione, che ha il fegato spappolato da nove scudenti consecutivi, ha la mente devastata dai nove scudenti consecutivi e ci beviamo accuse che non sono assolutamente vere, come dimostrano i fatti. Ma di cosa dobbiamo parlare? Cioè quindi quando vi dicono cosa rischia la Juve, niente, rischia soltanto che si inventano qualsiasi cosa per punirla. Perché come diceva Boniperti e come dicevano altri, finisce questo cominceranno con altro, finisce altro cominceranno con altro. Perché questa cosa che la Juventus è la squadra più importante d'Italia, tra le più importanti d'Europa, che è una squadra vincente, che è una squadra che ha classe, che ha serietà, che è una squadra che si vuole mettere continuamente, costantemente sotto processo, sotto inchiesta, ecco perché nasce l'idea della Superlega. E voi pensate che la Superlega nasce per una questione soltanto economica, no? Nasce perché quando Andrea Agnelli ha dovuto subire l'onda di vedere la Juventus condannata ingiustamente in calciopoli, lì è maturata l'idea della Superlega, mica non è maturata adesso. Adesso si sta sviluppando, si lo sta sviluppando e si farà la Superlega, le sanzioni dell'UEFA, ma chi se ne fotte? Se la Juventus, come io e come tanti come me, se ne va nella Superlega e abbandona l'UEFA e la FIFA, finalmente, perché non ne possiamo più né dell'UEFA né della FIFA né degli ufeiani né dei fifiani. Fatevi voi che caspita volete, la Juve va in Superlega e se Juventus, Real Madrid e Barcellona fanno la Superlega, sono cazzi amari poi, perché la Superlega fa gol a tutti, non a caso ha un numero chiuso, diciamo, nella fondazione, nel progetto, nella totale scrittura e non a caso vorrebbero entrarci tutti quanti. Ma a che serve tutti quanti? Fatevi UEFA e FIFA, non ci interessa più, alla Juve non interessa più l'UEFA e la FIFA. Ormai la Juve è la squadra con più campioni del mondo, nella storia. La Juventus ha già vinto due, è la squadra che ha fatto per prima il triplete, il triplete è Coppa UEFA, Coppa delle Coppe e Coppa dei Campioni, è la prima, certificato dall'UEFA. Che serve più gli incassi, gli introiti dell'UEFA? Non sono una minima parte della Superlega. E allora si va alla Superlega e negli ultimi giorni vi hanno citato le frasi di un noto avvocato della comunità europea che saranno confermate probabilmente dalla Commissione europea, della Corte di Giustizia europea, la Juventus andrà via e se rimane la situazione così, che la Juventus non se ne va, non ci sarà nessuna sanzione. Altri che vi dicano la sanzione è qua, la sanzione è là, la sanzione è sotto e sotto. No, non c'è nessuna sanzione, manco mezza. Mettetevelo bene in testa. Non ci sono sanzioni, non ci sono multe, non ci sono squalifiche, perché la Superlega non è stata fatta. Sono invenzione dei roditori per far scrivere, per far leggere. No. Se la Juventus decide di andarsene, allora l'UEFA farà le sue sanzioni, ma a quel punto a che servono? Se li ha mandati a quel paese, al paese di Beppe Grillo. Fatemi capire, e allora pure la questione della Superlega che la vogliono così ingarbugliare, è chiarissima, guardate, è chiarissima. Poi bisognerà vedere se i vari gradi di giustizia confermeranno che se per esempio le squadre se vanno alla Superlega non possono partecipare ai campionati propri nazionali, oppure i giocatori non possono partecipare mondiali alle competizioni organizzate dalla FIFA. Ma questo bisognerà vedere, bisognerà riscrivere gli statuti, perché nello statuto della FIFA, ne tantomeno in quello dell'UEFA, non c'è questo. C'è che chi se ne va prende sanzioni, ed è confermato dall'anticipazione dell'avvocato della Corte di Giustizia europea. Però non c'è che chi se ne va in Superlega poi diventa uno di serie B, no diventa di serie A, perché sarà un danno enorme per l'UEFA e il monopolio che hanno sarà proprio rovinato, scalfito dalla presenza della Superlega. vogliamo la Superlega? Basta con Ascoli, basta giocare con la Sampdoria, basta giocare con che dire, l'Avellino, che squadra? Basta l'Inter, la Provercelli, basta l'Italia. Superlega, Superlega. La Superlega è fondamentale per la nostra Juventus. E poi vi parlano tanto di Pogba. Pogba l'avete visto alla festa di Natale della Juventus. E' il più contento. Pogba farà parte della Juventus a pieno titolo e sarà l'uomo in più di questa squadra. Certo, immaginare nuovamente la ripresa del campionato e vedere nuovamente Allegri seduto in banchina, francamente. E' una prospettiva che mi fa paura, ve lo dico apertamente, mi fa paura. Però recuperare il Paredes, ma tutto questo fango che stanno buttando su questi calciatori, sono calciatori che la Juventus adesso metterà in vetrina, metterà in campo. Sarà una grande parte Juventus come uomini perché lo è, poi si giocherà male e se dovesse perdere perché Allegri in panchina è un allenatore scadente e che francamente fa cagare a tutti i livelli, questa poi è un'altra cosa. Quindi abbiamo parlato anche in questa seconda parte del processo sportivo, dell'accesso delle carte in procura che ci sono state, ma ancora non è stato aperto nessun processo, c'è un'inchiesta, ma si è fermata perché non c'è nulla di nuovo rispetto al processo già fatto e chiuso il 22 aprile scorso, il 15 aprile scorso. Abbiamo parlato della Superlega e abbiamo parlato del Pogba che in questo momento viene attaccato, ma adesso il fango è su Pogba. Quando fango è su Pogba? Quando fango è su Pogba? Ma state scherzando? Il miglior centrocambista del mondo che è arrabbiatissimo perché non ha fatto i mondiali per colpa sua. E ora vi faccio vedere che giocatore sarà Pogba. Poi ve ne accorgerete. Ecco perché in questo momento la situazione è questa e la situazione va sicuramente presa di petto perché non vi dovete fare affabulare, non vi dovete fare imbrogliare da questi imbroglioni che vogliono assolutamente vendere copie dei giornali, mettere pressione alle procure e soprattutto c'è chi probabilmente deve fare il regalo alla fidanzata e va trovando clic, clic, clic. La Juve è una cosa seria, la Juve è una cosa che va affrontata seriamente. Ricordatevi, chi l'affronta in maniera ingiusta poi ne paga le conseguenze a tutti i livelli. vi auguro di trascorrere una vigilia molto serena, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube e soprattutto ad attivare la campanella delle notifiche. Vi invito anche ad iscrivervi alla mia pagina Facebook al mio canale TikTok che ho abbandonato da qualche giorno ma giusto un po' che nelle prossime ore riprenderò a invadere con le mie verità perché le mie sono solo verità. Alla prossima. Grazie a tutti.